Sono quasi del tutto inesplorate. Quali sono le potenzialità del periodo evolutivo chiamato uomo? Commento. Le potenzialità spirituali dell'uomo sono quasi del tutto inesplorate. La trans leggera, per esempio, addita orizzonti illimitati. Per chi non ha ancora il mezzo per sentire queste potenzialità, cioè una coscienza sufficientemente costituita, questi orizzonti restano incredibili.